Sì, oggi è lunedì 7 aprile, mi sembra sia il 7 di aprile, sono le 9.20 quindi è tardissimo e stiamo partendo per andare a passare una giornata al mare, a sottomarina e quindi vi portiamo con noi anche oggi. Stanotte Ale ha fatto un casino della Madonna, ha avuto degli incubi, poverino, ed è per questo che è così tardi e stiamo partendo adesso e ci vediamo dopo. A VVV, siamo partiti! Indira hai sonno? Tu hai sonno che stanotte hai fatto casino? A Dudie? Eh no, tu hai fatto casino, no a Dudie. A Dudie? No, Alessandra ha fatto casino, non ho le Dudie. Buongiorno. Cosa c'è? Buongiorno. Buongiorno, hai visto che ora è? È tardissimo, sono le 9.29, stanno sciando già da 10 minuti. Cagare. Dovevamo essere già arrivati. E invece stiamo portando adesso. Anche ora sentiamo le 29.7 e le 8.15. Succede anche nelle migliori famiglie. questo cosa fa con un cancello in mezzo alla strada? Che cancello? Quello lì. Un cancello. Un cancello. Quello lì è un cancello. Da un bacino. Scusate. Dai un bacino. Dovi un bacino. Devo guidare. Dovi un bacino che siamo incollutati. Albatross. Siamo arrivati. Scusate. Siamo arrivati. Ora dobbiamo cercare un parcheggio. Qualcuno sa dove possiamo trovare un parcheggio? Là c'è l'acqua. Di là. Eccoci arrivati. Tieni la forte, Lindira. Tieni la forte, amore. C'è l'acqua. Hai visto quanti giochi ci sono qua per i vini? Che belle giostrine. Nosino. 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 Ma dovevi tenerla forte. A. Che frustrante. Da da. Da da. Da da. Da da. Da da da. Da da dai. Da da da. Da da. Dai suco quello lì di suco. 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 Succo. la carrozzina, in spiaggia, sulla sabbia, non battuta, aiuto, eccoci, che schifo, la spiaggia fa veramente schifo, se vi faccio vedere è un zuzzume. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!